Ciao ragazzi bentornati sul canale, io sono Fascia77 e siamo su un altro episodio della serie di Detroit Become Human. Perfetto oggi siamo con Alice e con Cara, ricordiamo che erano rimasti nella casa con quella specie di androide pazzo. E vediamo oggi come riusciamo a salvarci, perché penso che questa casa dobbiamo lasciarla prima o poi. Ok, allora controlla Alice, Alice sta dormendo e allora riaccendiamo il fuoco, esatto. Trova della legna, vabbè qua non c'è tutto il suo tavolo. Allora, vediamo che cosa c'è qua, legge, un'altra rivista, Cyber World Life. Andiamo avanti. Il Canada è ancora un paese senza androidi. Vabbè. Allora dobbiamo cercare della legna. Abbiamo visto qua c'è qualcosa. Ok. Metti giù. Aspetta che Alice si sveglia. nel frattempo facciamo qualcosa qua. Il giornale l'abbiamo visto. Andiamo un occhio di qua. poi il Banferm. Vabbè. Gli scrittori sono vivo, Ranove. soldi. Una banconota ce la prendiamo? Ma si dai. Ci può servire. Guarda. Questo lo l'orologio. Controlliamo anche questo uccello. Ok. Qua non possiamo fare nient'altro. ok. Queste sono tutte le scritte che ci sono sul muro. E qua ovviamente non possiamo uscire. che allora ci deve dire cosa dobbiamo fare a questo punto. No. Ma che cosa c'è qua? qua. Out of this world. Videogiochi degli anni 80-90. Allora. Cambio aspetto. Trovo nuovi vestiti. vediamo il my soap e vediamo se troviamo qualche cosa. Allora. Partiamo da questa stanza. qua c'è un armadio. Questo giubbotto ce lo prendiamo. E almeno già si vede di meno che siamo un armadio. Taglia capelli. andando prendiamoci la pistola qua. Qua dentro c'è qualche cosa. Assolutamente no. allora fuori c'è. Si vede il motel. Ma noi abbiamo scelto di stare in questo buco. Qua non c'è niente. poi c'è niente. Da fuori c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Quello cos'è? Esatto, abbiamo le forbici, andiamo alla spondatina. Oh, un secondo, guarda come ho cambiato. Seleziona l'opzione X, seleziona il nuovo colore dei capelli, biondi, bianchi, nevi, fatto. Bianchi. Dai, facciamo la neve. Eh, seleziona il nuovo colore dei capelli, no, va bene, così, dai, fatto. Ok, togliamoci anche il simbolo. Perfetto, quindi anche lei si è tolta il simbolo d'Androide e ora è come una persona normale, diciamo. Almeno a prima vista. Perfetto, quindi possiamo tornare da lì, c'è però nel frattempo controlliamo qua un attimo, vediamo che c'è. Oh merda, questo chi è? Alice? Per ora è tutto, può andare. Merda cieng. Ci sono gli agenti nel quartiere, magari qualcuno ha visto qualcosa. Ok, fammi sapere che cosa trovano. Cosa ci vuoi fare? Non ne ho idea. Ha preso il primo autobus possibile e ha raggiunto il capolinea. Decisione non pianificata, ma dettata dalla paura. Gli androidi non hanno... Ci siamo dormi in date. I devianti sì. Sono soprappatti dalle emozioni e agiscono in modo irrazionale. Questo non ci dice dove sia finita. Non aveva un piano e non sapeva dove andare. Esatto. Non è andata lontano. Forse. Ralf, nutre la bambina con questo. Ma che schifo. Ne fa bene. Un regalo. Per risolvere i vecchi malintesi, Ralf cucina. Faremo proprio come gli umani. Gli piace la carne bruciata. Venite. Venite, sedetevi. Grazie per l'invito, però. Sei davvero gentile, Ralf. Ma dobbiamo andare via. Andate. No, andrete dopo che la bambina avrà mangiato. Mangeremo insieme come una famiglia. Il papà, la mamma e la bambina. Questo è fuori completamente. Ti ho detto che ce la dobbiamo andare, comunque. No, Ralf. Andiamo via. Viagli, Alice. La bambina resta qui. Ok. Cominciano i ragazzi. Controllano la pistola. Spiega. Non è cibo per umani, Ralf. Sbagliato! Cazzo. Gli umani mangiano gli animali morti, lo so. Oh, non la vogliamo mangiare, basta. Farà del male, però. Siamo amici. Ricordi? No, no, Ralf non vuole far male alla bambina. Vuole solo che mangi. E basta. Ma come accetta? Che schifo. Ok. Ora mangiamo insieme. Come una famiglia. che schifo. Che schifo. Che schifo. vedrai succulento, vedrai succulento, succulento. Padre, madre, bambina. Ti prego, cara. Non voglio mangiarlo. Cosa ha detto? Facciamole ingazzare. Ha detto che non vuole mangiare. Forse non è abbastanza buono. Perché si è ingazzata lì? È abituata a cose più buone. Ma Ralf, l'ho fatto per lei e adesso lei lo mangia. Davanti. Mangia. Hmm. Mangia! Mangia. Chiedete il corpo. Che ne abbiamo discorso? Hai ucciso l'umano, vero? No. No, era già qui quando Ralf l'ha trovato. Il sistema è sicuro. L'hai ucciso tu, Ralf. Mentire è inutile. Odigli umani, ma sei come loro. Un assassino. Ralf non voleva fare del male. Non l'ha posato il coltello. No. Solo che... Ralf non tiene rabbia. Quando la rabbia arriva, Ralf non sa cosa fa. Lui... diventa stupido. Pieno di odio. Ok, quindi mi sa che non lo dobbiamo fare ingazzare. Voleva solo essere vostro amico. Lasciaci andare. C'è nessuno? No, cazzo. Sulla recinzione c'è sangue blu. C'è stato un altro androide qui. Guarda quanto è professionale hai questo. Quindi dobbiamo indagare su noi stessi. Andiamo a non trovarci. Qua c'è l'ingresso. Andiamo dalla finestra. Sbircia. Cazzo, ho visto. C'è nessuno che la vogliamo portare. Dobbiamo andarci per forza. Ape. Perfetto. Quindi poi è rimasto solo questo. Sangue blu. Sulla recinzione c'è sangue blu. C'è stato un altro androide qui. Ralf si è graffiato passando. È sangue di Ralf. Ok, ci sto difendendo. Buono. Sto cercando una X400. L'hai visto per caso? Ralf non ha visto niente. Ralf non ha visto niente. Non ti farò. Non ti farò. Ci sono altri androidi qui. Altre androidi. No. Ralf è solo. Ok. Scansiono l'androide. Diamo un occhio in giro prima. Ebbene, questo è il videogioco che abbiamo visto prima. Modello VR600. Giardiniere. Scomparso. Ok. Luciature a danno cutane irreversibile. Possibile causa calore estremo. Dov'è il terzo? Dov'è il terzo? Dov'è il terzo? Quindi esce. Allora, livello di stress è 56. Andiamo un'altra occhiata qua in giro. Questa è la rivista. Purtrodo. Gli androidi non hanno freddo. Il tuovo. Tavolo apparecchiato per tre persone. Ok. Gli cibo. Gli androidi non mangiano. Faccio questa porta, controlla, il livello di stress sta salendo. L'attrezzo è adatto a tagliare una recinzione, e mi pare che non c'è più niente, vediamo se saremo sopra che succede, il livello dello stress sta salendo. C'è qualcuno di sopra? No. Mi sono... Quando vede dice la verità. Allora dove cazzo sono? Che cazzo stai facendo lì? Ah, stai giusto. Allora se vado lì qua... Non è rimasto più niente. Se ci parliamo... Andiamo a risaliamo di nuovo... Oh, non ci fa salire. Che dobbiamo fare? Conor, che cazzo fai? Trovato qualcosa? No. No, non è qui. Vedi, è proprio come dicevo io. Leviamoci dalle palle. Però c'è stata. qua. Ecco, il pazzo vingoglionito l'abbiamo lasciato libero così. guarda, dove l'avevano messe? Grazie. Proteggi la bambina. Gli umani non devono trovarla. Chi vende Ralf? ci ha aiutato a fuggire. E qua c'erano tantissime scelte. Addirittura. Va bene, quindi c'era di tutto da fare. Va bene, l'importante è che siamo salvi, quindi possiamo scappare con Cara e Cara nel frattempo si è travestita e quindi almeno non ci dovrebbero riconoscere più. Guardate quante cose che c'erano da fare da qua. Comunque, anche per questo episodio è tutto. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo nei prossimi giorni. Continuate a seguirci. Ciao, ciao.